Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore Senza dubbio, Paolo Bonolis è uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico italiano Grazie alla sua parlantina ed ironia, ogni volta conquista milioni di telespettatori Le sue trasmissioni registrano ascolti record e anche sui social ha un seguito notevole, addirittura è arrivato a più di 1,1 follower Una grande soddisfazione anche se non ama molto comunicare attraverso il suo profilo IG, dato che è una persona molto riservata Nelle scorse ore, un annuncio lo ha reso uno degli uomini più felici sulla faccia della terra, non ci crederete mai, ma la donna in questione è incinta, scopriamo di più La vita privata di Paolo Bonolis Paolo Bonolis non ha di certo bisogno di presentazioni La sua impeccabile carriera la conosciamo tutti, infatti, è uno dei conduttori più apprezzati dal mondo dello spettacolo italiano Della sua vita privata, invece, sappiamo che ha cinque figli, Stefano e Martina nati dal suo precedente matrimonio con Dayanzo Eie Anche altri tre Silvia, Davide e Adele avuti dall'amore con Sonia Bruganelli Paolo Bonolis Essere genitori è una grandissima gioia, ma è anche molto difficile essere una buona guida per i nostri figli e Paolo Bonolis lo sa bene Nelle scorse ore, è arrivato un annuncio inaspettato, da parte di una persona che conosciamo, scopriamo di più Il dolce annuncio, Paolo Bonolis è al settimo cielo, il conduttore di Avanti Un Altro, è un padre fantastico, malgrado, essere genitore non sia affatto facile A breve scoprirà cosa significa provare questa forte emozione, Margherita Molinari, la bomber, del noto quiz game di Canale 5 Margherita Molinari di Avanti Un Altro, la giovane è in dolce attesa e si sta godendo l'estate a Milano Marittima, con il suo bel pancione Nella didascalia di un post IG, dove mostra ai suoi follower il suo pancino, ha scritto In tutti questi mesi ho osservato il mio corpo cambiare ed ho capito che le curve più belle sono quelle che sto scoprendo ora Margherita Molinari è alla 32esima settimana di gravidanza e sta vivendo a pieno ogni momento Dal cambiamento del suo corpo ad ogni altro aspetto Sul suo seguito profilo IG ha anche pubblicato un servizio fotografico professionale, e in modo da ricordarle per sempre questo periodo così importante della sua vita Sarà una mamma fantastica e questo è certo Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme Ci vediamo nei prossimi video Fino a quando ci incontriamo nuovamente